Incontro in Vaticano oggi tra Papa Francesco e il Presidente di Georgia. Nel corso dei cordiali colloqui, rende noto la Sala Stampa Vaticana, ci si è soffermati con preoccupazione sulle tensioni che interessano la Regione e nel rilevare l'importanza del pieno rispetto della legalità internazionale. È stato poi espresso l'auspicio che ogni soluzione sia ricercata attraverso il negoziato pacifico tra le parti interessate. Apprezzati, infine, gli sviluppi delle relazioni bilaterali e il positivo contributo della locale comunità cattolica nell'ambito dell'attività caritativa e dell'educazione.